Certo, ma c'è un'opera tra tutte quelle che ha realizzato a cui è particolarmente legato? Beh, è l'impegno civile che a me mi è sempre interessato e quindi sotto questo aspetto è un monumento di Auschwitz, sia pure un argomento così triste, drammatico, però è certo un grande impegno e io sono veramente fiero di aver... Ci sono voluti anni per realizzarlo? Ci sono voluti anni, il progetto è stato ridiscusso, rivissuto, è molto complessa la cosa, adesso si vede i suoi binari, il primo progetto era forse più interessante di quello che poi io ho realizzato. Ero con mio fratello Andrea, il primo progetto, e con l'architetto La Fuente, che è un architetto spagnolo, era un concorso internazionale aperto al mondo e io per scommessa, diciamo, insieme alla Fuente e Andrea abbiamo fatto questo primo tentativo che ha avuto fortuna, perché siamo risultati in una rosa di, mi pare, sei gruppi di scultori internazionali, voglio dire, sono passati moltissimi anni, e poi non hanno voluto, i miei compagni di cordata, diciamo, hanno mollato, non volevano più realizzarlo, partecipare, passava il tempo, c'erano contraddizioni, eccetera, invece ho tenuto duro e ho preparato un progetto nuovo. Ed è stato approvato? Che è questo che si può vedere lì? Che stiamo vedendo? È enorme, è molto grande? È lungo 57 metri di lato, ovviamente ce l'è stato fatto da questi scalpellini polacchi, mi ricordo che non sorridevano mai, oppure quando facevano un sorrido sembravo che mostrassero i denti come i cani cazzini. E' però degli stupendi operai magnifici, fatto a mano tutto, garantito, le macchine non c'erano sul campo. Grazie.